yukio a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi ragazzi andremo ad aprire il nuovo structure leggenda delle bestie cristallo spoiler questo prodotto ha pochi supporti bestia cristallo tutti gli altri stanno in battle of legends crystal revenge perché ovviamente non sto dicendo che è sbagliato fare i supporti bestia cristallo dico che è sbagliato dividerli tra questo e quel set quello che mi dà fastidio è che questo set fondamentalmente ha solo le reprinte di quelli vecchi quelli fighi anche a livello di artwork stanno tutti lì dentro e io non vedo l'ora di aprire quel prodotto non so se ci siamo capiti per chiunque non sapesse di cosa sto parlando il set è questo guardate che artwork incredibile ma prima di tutto se volete supportare questo canale perché lo so che vi piace vi basta solamente iscrivervi mettere mi piace a questo video mettere il follow su twitch e se ci mettete anche la sub su twitch male non fa inoltre se volete convertire le vostre carte di yugi magic e pokemon che non vi servono in denaro contante vi basta scrivermi su instagram che praticamente ritiro di tutto e forse un accordo si trova a ovviamente se volete comprare questo prodotto trovate il link di magic corner qua sotto in descrizione il mio sponsor che mi vuole molto bene non mi ha ancora abbandonato detto questo io procedere con l'opening allora andiamo con l'opening vediamo allora questo è il play map vediamo se a questo giro l'hanno fatto bellino ok è abbastanza standard è l'artwork dello structure niente di più niente di meno e basta controlliamo se nel retro c'è un po di loro probabilmente a chiedere troppo e andiamo dopo che ho sventrato questa cosa con l'opening dello strutturo già vedo una cosa che non mi piace questo drago arcobaleno ultra è terribile è veramente terribile se non ricordo male settimana scorso ho venduto due drag arcobaleno da speed duel secret e ok non sono quelli da taev però cazzo cazzo quanti erano belli allora ma a parte sto schifo vediamo cosa c'è abbiamo un nuovo supporto il drag arcobaleno cristallo finale adesso andiamo a leggere l'effetto si evoca con un mostro cristallo finale più 7 mostri bestia cristallo noto che è molto semplice allora deve essere evocato specialmente dal tuo extra deck durante un duello in cui hai evocato specialmente un mostro cristallo finale bandendo i mostri sopraindicati dal tuo terreno e o cimitero mentre set o più dei tuoi mostri bestia cristallo con nomi diversi sono banditi questa carta guadagna 7000 di attacco onesto se questa carta non ha combattuto in questo turno effetto rapido può offrire come tributo questa carta mischia tante carte sul terreno quanto è possibile nel deck e se lo fai evoca specialmente un qualsiasi numero di tuoi mostri bestia cristallo banditi bello l'artwork credo sia un po difficile da tirare ma non avendo testato niente meglio che me ne sto zitto poi abbiamo bestia cristallo drag arcobaleno questo l'abbiamo già visto è uscito in ghost from the pasto poi abbiamo ponte arcobaleno del cuore se non ricordo male esiste una carta dell'animo molto simile durante la tua main phase puoi evocare normalmente un mostro bestia cristallo in aggiunta alla tua evocazione normale posizionamento puoi guadagnare questo effetto una sola volta per turno puoi utilizzare ognuno dei seguenti effetti di ponte arcobaleno del cuore una sola volta per turno durante la tua main phase puoi distruggere una carta bestia cristallo che controlli o nella tua mano e se lo fai aggiungi una carta magia e trappola bestia cristallo dal deck alla mano se uno o più carte bestia cristallo vengono messe nella tua zona carta magia e trappola anche durante la damage step puoi scegliere come avversario una carta controllata al tuo avversario fa ritornare sia questa carta che quella carta nella mano carina ma niente di più niente nemmeno poi abbiamo legame cristallo che è molto bellina e secondo me potrebbe essere interessante aggiungi una carta bestia cristallo dal deck alla tua mano e metti una carta bestia cristallo con nome diverso dal tuo deck scoperto nella tua zona carta magia e trappola come una carta magia continua può attivare solo un legame cristallo per turno porca troia questa è una carta funzionale poi abbiamo super ad ora arcobaleno e io ho letto super ad ora ma questa carta viene sempre considerata come una carta cristallo finale deve essere evocato tramite fusione oppure evocato specialmente offrendo come tributo un mostro cristallo finale di livello 10 una volta per turno puoi bandire un mostro bestia cristallo al tuo cimitero questa carta guadagna attacco parere attacco del mostro bandito fino alla fine di questo turno effetto rapido può offrire come tributo questa carta evocata tramite fusione mischia del deck tutte le carte sul terreno questa è una fusione sempre difficile da evocare però sicuramente più forte funzionale funzionale sarà la parola del giorno beh dirò almeno altre 20 volte poi abbiamo il token di jesse anderson con tutti i bestia cristallo la cosa carina è che l'hanno fatta anche super molto bella poi abbiamo jesse e rubino boh diciamo che su questa potevano lavorarci un tantino di due sembrano due immagini stock messa una sopra l'altra poi abbiamo allora carbancolo rubino gatta metista tartaruga poi il pegaso dietro no la tigre allora dietro abbiamo il mammut tambra aquila cobalto il pegaso zaffiro finalmente drago arcobaleno scuro che diciamo che questo è il principio di tutto quello che sarà i nuovi supporti bestia cristallo poi maestro dei cristalli ovviamente detentore dei cristalli ovviamente amo che diciamo una vita fa ci si giocava dentro per far funzionare il mazzo attualmente non lo so ma credo di sì poi abbiamo o la prima reprinte decente scorrido dimensionale inutile perché esiste ultra la team reprintata un mese fa altra reprint carina contatto c tipo non a livello max c però è della stessa famiglia poi abbiamo ash reprintata che questa nitin però nel senso ha un suo discreto valore bell anche questa ottima reprint presente in mp 22 abbiamo poi risveglio dei finali cristallo vediamo cosa fa rivela un mostro cristallo finale nella tua mano può attivare uno di questi effetti se controlli un mostro cristallo finale può invece attivare uno o due di questi effetti in ordine e non devi rivelare mostro prendi una carta ponte arcobaleno o una rifrazione arcobaleno dal tuo deck e aggiungila alla mano oppure mandala al cimitero il secondo evoca specialmente una carta mostro bestia cristallo dalla tua mano deco cimitero o zona magia e trappola può attivare solo un risveglio finale cristallo per turno onestissimo fortissima tanta roba poi abbiamo agita cristallo scegli come bersaglio una carta mostro bestia cristallo che controlli distruggila poi evoca specialmente un segno bestia cristallo con il tipo attributo livello e o attacco difese originali del mostro distrutto se uno o più carte bestia cristallo vengono messe nella tua zona carta magia e trappola mentre questa carta nel cimitero anche durante la damage step puoi bandire questa carta evoca specialmente una carta mostro bestia cristallo dalla tua zona carta magia e trappola può essere simpatico ritirando su carbancol se non ricordo male che faceva qualcosa di carino si ricordavo bene perché quando viene evocato lui specialmente ridiro su tutti gli altri bestia cristallo dalla zona carta magia e trappola poi abbiamo antiche città rovini arcobaleno che non è un ultimo ovviamente abbiamo poi ponte arcobaleno tentazione cristallo benedizione cristallo abbondanza di cristalli promessa cristallo praticamente hanno ripintato tutto albero di cristallo rilascia di cristallo valore raro rifrazione arcobaleno oscurità avanzata la melodia del drago che si risveglia per drago arcobaleno sepoltura sciocca di beni anche questa ottima reprint poi abbiamo ciclone cosmico altra reprint ottima anche se l'hanno stampato ultimamente in tama beneficio cristallo che credo sia una carta nuova questa carta dice evoca specialmente fino a due mostri bestia cristallo della tua zona carta magia e trappola e se lo fai guadagni life points pari e la somma dei loro attacchi originali quindi praticamente posso tirare solo il carbancol un altro e per l'effetto del carbancol tiro su tutti gli altri se non più carte bestia cristallo vengono messe nella tua zona carta magia e trappola mentre questa carta è un tuo cimitero anche durante la damage step puoi bandire questa carta di sotterra la prima carta del tuo deck e se era un bestia cristallo aggiungila la mano oppure evoca specialmente altrimenti manda quella carta al cimitero ma anche questa non è male diciamo che sono partito un po prevenuto però nel senso alla fine nello struttura hanno reprintato tutto quello che praticamente è stato stampato bestia cristallo tranne la carta che è stata inserita all'interno dell'MP poi i supporti nuovi quelli oscuri l'hanno messi non set a parte diciamo che ci posso stare a quel punto non avrei messo il supporto in mp 22 ma l'avrei messo qua e in mp avrei messo un'altra carta che era un import di anime show chronicles come altra carta abbiamo un miracolo cristallo credo che sia anche questo nuovo supporto quando viene attivata una carta magia trappola o l'effetto di un mostro distruggi una carta bestia cristallo che controlli e se lo fai annulla quell'attivazione e se fai quello distruggi quella carta perfetto italiano se non più carte bestia cristallo vengono messe nella tua zona carta magia e trappola mentre questa carta nel tuo cimitero anche durante la da magi step puoi bandire questa carta metti un mostro bestia cristallo della tua mano deck o cimitero scoperto nella zona carta magia trappola puoi utilizzare l'effetto una volta per turno carini gli effetti delle carte nuove perché alla fine sinergizzano tutti perché o evoca specialmente oppure mandato cimitero ma se viene mandato al cimitero perché una carta magia e trappola potrebbe essere una carta che dal cimitero viene bandita e fa partire l'effetto quindi onesto vorrei capire che mazzo ci posso tirare fuori allora abbiamo poi brillantezza cristallo puoi controllare solo un brillantezza cristallo ogni mostro bestia cristallo che controlli guadagna attacco pari alla sua difesa originale se uno più carte bestia cristallo vengono messe nella tua zona carta magia e trappola anche durante la da magi step puoi mandare questa carta scoperta al cimitero evoca specialmente un bestia cristallo dalla tua mano o cimitero inoltre qualsiasi danno che subisco in questo turno viene dimezzato carina molto meno delle altre però carina abbiamo poi coppia cristallo con clave cristallo che anche questa è vecchia e questa cos'è magia cristallo finale è nuova quando un tuo mostro bestia cristallo viene distrutto in battaglia puoi mandare sette carte bestia cristallo con nomi diversi da mazzo deck e o terreno scoperta al cimitero evoca specialmente un mostro fusione cristallo finale dal tuo extra deck questa viene considerata come un'evocazione tramite fusione se uno più mostro di cristallo finale scoperti controlli lascia il terreno per l'effetto di una carta dell'avversario puoi bandire questa carta dal tuo cimitero metti in qualsiasi numero di mostri bestia cristallo dal tuo cimitero scoperta in una zona carte magia e trappola come magia continua ragazzi è fortissima questa devo ammettere che è veramente grossa tanta roba sarebbe stato figo vederla fuori poi abbiamo contro gemma vabbè fiamme del fruetto non c'entra un cazzo meta verso altra ristampa buona e poi un altro token insieme a pubblicità gratuita che con a di mette all'interno di questi prodotti allora prima di lasciarvi volevo far vedere effettivamente quanto valevano le carte all'interno di questo prodotto allora partiamo da hash che comunque anche se è stata riprendata ultimamente da teen costa una fracca dei soldi perché il primo play set almeno 550 lo paghi se lo vuoi in italiano almeno 6 tanto comunque rimane una carta forte non c'è se può fare niente e da teen l'hanno fatta secret poi e non esce non so se avete visto la live ma non ne sono uscite troppe in 10 case poi abbiamo bella che si è crollata di prezzo sta sull'euro più o meno poi abbiamo shifter che anche questo è crollato di prezzo però rimane sempre una carta buona e vabbè abbiamo sepoltura ciclone ma tutta roba che è crollata di prezzo ma che comunque secondo me necessita di essere recuperata se ovviamente giocate quindi ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e vi ricordo come sempre con questa voce suodente che se mi lasciate il vostro prime c'è un giveaway con un playmat quindi twitch è qua sotto vi aspetto quindi ragazzi state mesi e noi ci rivediamo prossimamente sempre qua con un nuovo video ciao a tutti